Ciao ragazze, eccomi qua con un altro video allora, questa è un'introduzione del video perchè voi mi avete chiesto di fare un video come applico io le liner ecco, l'ho preparato, l'ho fatto infatti come vedete non è stato messo un cranchè perchè io non sono molto brava ad applicare le liner e anche perchè ogni volta mi trema la mano perciò non ne sono appunto capace, perciò l'ho applicato come a moto mio ma non lo chiamerei più, non lo chiamerei tutorial ecco, perchè alcuni, cioè, volevate un tutorial ma non lo chiamerei tutorial ma semplicemente come applico io le liner perchè io non sono molto capace ci sono giorni che mi viene una meraviglia che mi viene la ricca bella dritta ci sono giorni quando applico le liner proprio che l'ho applico una schifezza totale e poi ho il trimo nella mano perciò mi viene una schifezza totale specialmente quando sono molto molto agitata che in questo periodo lo sono abbastanza niente, io comunque vi lascio il video spero che questo video vi sia piaciuto saluto a tutti quanti voi vi mando un grosso bacio e saluto in particolare a Vale Mimì che mi ha chiesto appunto di salutarla nel video ti saluto e ti mando un grossissimo bacio e niente, io vi lascio il video alla prossima, ciao! 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 Grazie a tutti.